Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Max e qui parliamo della sorpresa che c'è stata durante il concerto del cantante Gigi D'Alessio durante una delle sue tappe. Questa tappa, come in questo caso, era chiamata Figli di un Dio minore, in cui a un certo punto è spuntato sul palco Gigi D'Alessio ed è uscito con il piccolo in braccio. Una presentazione che ha emozionato il pubblico dell'artista, diventato padre per la quinta volta dalla compagna Denise Esposito. Frutto d'amore ha avuto lo scorso gennaio assieme alla compagna. Il bimbo, insomma, ha fatto in qualche modo la sua prima uscita pubblica in braccio a un orgoglioso Gigi D'Alessio, che ha detto questa è la cosa importante che vi volevo dire. Lui è Francesco. Per la prima volta è sul palco. Ha detto così il cantante durante il concerto. Gigi D'Alessio e il figlio Francesco sono stati accolti con un lunghissimo applauso e il video del bel gesto dell'artista campano è stato poi ripostato anche da Denise Esposito, da qualche anno legata al cantante madre di Francesco, quinto figlio di Gigi D'Alessio. Dal primo matrimonio D'Alessio ha avuto Claudio, poi Luca e Ilaria Andrea, avuto dall'ex compagna Anna Tatangelo. Poi, successivamente, dopo il video di Gigi D'Alessio e il figlio Francesco, il collega Nino D'Angelo, saluti dal palco insieme all'amico, praticamente dopo aver dato un bacio al piccolo ha commentato e ha detto, Francesco è tale quale alla mamma. Dopo la fine della lunga relazione con Anna Tatangelo, il cantautore ha iniziato a frequentare Denise Esposito, di cui ne avevamo già parlato anche in altri video. Sua fan da ben 25 anni in meno e ha cercato di tenere nascosta la relazione. Ma poi, usciti allo scoperto, quando ormai la relazione era ben salda e non poteva essere ancora nascosta, Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono usciti, beh, a quel punto tranquillamente allo scoperto e lo scorso gennaio sono diventati genitori di Francesco. Lei, ve lo ricordo, ha 30 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. Studia giurisprudenza e il suo sogno è quello di diventare giustamente avvocato. Quest'estate il cantante ha pubblicato la prima foto di coppia scattata a Mykonos, dove lui aveva in programma un concerto. Io, tu e Aluna. Aveva scritto lui a corredo della foto con tanto di bacio, facendo il pieno di like e di commenti anche da parte degli amici VIP, come ad esempio Ivan Granatino, Biancazzei o Clementino. Dopo la foto è arrivata anche la presentazione in pubblico, con il video di Gigi D'Alessio e il figlio Francesco che ha fatto emozionare i suoi fan. E questo signori, per questo video possiamo dire che è tutto.